La RAI, radio televisione italiana, è lieta di presentare le ricette di Arturo e il Kiwi. Godi popolo! Ragazzo, vai con la sigla! Grandi, che piccini, soci di genuini! Oh, sì, 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 sì. Aleo! Aleo! Kiwù, 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 kiwù! Ai fornelli il grande chef Arturo, il Duro! Grazie, grazie, troppo buoni! E a servirlo e riverirlo, il mitico cerca guai, l'uccello Kiwi! Ragazzo, stai male? Malo, malissimo, malissimo, malissimo! Ci sono delle famiglie che guardano, controllati! Povero Kiwù, povero Kiwù! Mi sa che hai il male delle 3M? Gravo, gravissimo, sono morto! 3M, mangia, meno maialino! Ieri sera, ti sei scofanato tutto il ristorante! Io! Amatriciana, lasagne, bagna cauda, cassola, trippa, fonduta tripla, parmigiana, vaccinara, 4 babarrum, sorbettino al limone, 420 euro di conto che mi devi ancora rendere! Fermo, cambialo! Lascia perdere, mi fido! Benefattore, Kiwù! Benefattore, Kiwù! Però me li rendi, eh? Rendo, rendo, rendo soldo! Dobbiamo lavorare, bevi! No! Schifo, schifo! Ma! Speriamo bene! Cari amici vicini, lontani e svizzeri, oggi vi andiamo a presentare un piatto tipico della cucina lombarda, le costolette alla milanese! Essendo il mio dipendente in cassa malattia, o forse defunto, mi sa che dovrò arrangermi da solo! Mamma mia! Guarito? Perfetto! Kiwi, kiwi, alleluia! Kiwi, kiwi, alè! Mi sa che ti preferivo prima... Le costolette alla milanese! Ingredienti per 4 buon gustai che non hanno nessuna intenzione di mettersi a dieta! Quattro costolette di vitello con l'osso, tagliate nel carré, alte quanto l'osso! Due uova? Oh mio, no, 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 no! De gallino, fresco, fresco! È meglio! Pane grattugiatto, cento grammi di burro, sale pepe! Grado di difficoltà? Cinque kiwi! Chi a cucinarla bene ci vuole un po' d'arte! Pronto! Battere le costolette? leggermente spolverizzarle di sale e di pepe via indipassarle nell'uovo sbattuto e nel pangrattetto comprimere bene l'impanatura con il palmo della mano o della zampa così che l'impanatura suddetta aderisca bene e non si stacchi durante la cottura far soffriggere il burro in un largo tegame a fuoco moderato attento che tu hai fornelli ti sei bruciato sarà appena il burro spumeggia ad agiarvi le costellette cuocerle 2-3 minuti per parte finché saranno dorate perfetto passarle sul piatto di portata guarnendo con spicchi di limone e voilà una bontà sono ottime anche fredde ragazzo lo slogan ragazzo se non dici lo slogan ti licenzio magna sano magna lento poi vedrai che sei contento ehi grazie a tutti Grazie a tutti.